Sidi nasce circa due stati fa, insieme alla voglia di creare un qualcosa di totalmente indipendente e solista. In base alla sperimentazione e all'utilizzo di software e hardware, sono arrivato a creare pari composizioni di stampo hip hop. Blood on paper nasce dal contrasto di emozioni all'interno dell'uomo, vuole sottolineare questo concept. Il contrasto di emozioni l'ho voluto sottolineare con l'utilizzo di una batteria acustica, dato che il mio strumento è associato ad una batteria elettronica o a varie drum machine prodotte qui in studio. Il tutto è stato autoprodotto e la scelta della distribuzione digitale è stata molto comoda per la questione dei costi, sia per la promozione, dato che oggi gira tutto sui social. Il disco è stato creato insieme a Rosita, una cantante meravigliosa. Subito dopo è nata questa collaborazione, ho creato questi quattro brani, sul quale ho sbattuto molto la testa, per renderli perfetti per le mie orecchie, per il mio cuore. Io ho deciso di registrare la sua voce per andare a riempire, a dare un significato molto profondo con i suoi testi. Sì, ora saremo in giro, faremo qualche data verso marzo, ad aprile qualcosina e probabilmente continueremo con queste date. Ovviamente se il tutto piacerà. Ora avremo un bel po' di date su Bari e probabilmente bazzicheremo qualche regione più a nord e poi si vedrà a presto. Ciao ciao!